C'era una volta un uomo di nome Mignolino che voleva andare nella foresta a catturare gli animali per portarli a lavorare nel suo circo. Mignolino arriva nella foresta e incontra i leoni che roggiscono, lui si spaventa e scappa via. Dopo incontra le scimmie che lo rincorrono, ma lui con una liana sale sull'albero più alto della foresta. Per fortuna c'è una giraffa che lo aiuta a scendere facendolo scivolare lungo il suo collo. Grazie, non so come avrei fatto senza il tuo aiuto. C'è un cocodrillo che sta sbadigliando e Mignolino sta per caderci dentro. Che spavento, meno male che sei arrivato. Cosa potrei fare per ringraziarti? Lasciarci vivere qua. Il circo non è un posto per noi. Mignolino decide di diventare amico degli animali e fare una festa tutti insieme. Mignolino 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 Mignolino